Allora inizierei proprio con Riccardo chiedendogli un breve accenno di che cos'è un NFT, eventualmente quali sono i rapporti con la blockchain e qual è il rapporto con un'altra forma di tecnologia che si basa sulle blockchain che sono le criptovalute? Sì, allora innanzitutto l'NFT è una parte della blockchain, è un figlio della blockchain, è non fuggibile il token quindi come hai detto giustamente tu non è fungibile alla caratteristica della non fungibilità quindi non ha un elemento di singolarità che lo contraddistingue, anzi ha un elemento di singolarità che lo contraddistingue e il token è un insieme di informazioni digitali che sono all'interno della blockchain e che conferiscono quindi un diritto ad un determinato soggetto di qui la tokenizzazione che è poi la conversione dei diritti di un bene in un token digitale che è registrato su una blockchain blockchain, un enorme, dobbiamo immaginarlo come libro mastro digitale dove vengono registrate tutte le transazioni in modo immodificabile e quindi con l'indicazione della proprietà, dell'appartenenza di quel particolare token gli NFT al pari degli altri token pur non essendo fungibili sono trasferibili ma non sono intercambiabili quindi dobbiamo pensare a un NFT come ad una vera e propria opera d'arte immaginiamoci un quadro di Botero mentre invece le criptovalute sono delle vere e proprie banconote l'alter ego digitale della banconota quindi l'NFT è unico, individua qualcosa che ha una caratteristica di singolarità e che possono avere un proprietario o addirittura un gruppo di proprietari quindi chiaramente è un'unità di valore digitale come se fosse certificato possiamo dire soltanto che l'attendibilità non è data da un ente certificatore ma è derivata dalla blockchain Ok, perfetto, grazie e sappiamo che dal punto di vista dello sport ci sono già degli esempi di utilizzo posso chiederti degli esempi? Sì, certo, nel mondo sportivo il token è alla sua alba all'alba di una nuova era nella quale esiste il token, il fan token molto spesso parliamo di fan token quando ci riferiamo a squadre di calcio il Paris Saint Germain ha proprio ultimamente visto aumentare di valore il proprio token del 110% sul mercato degli exchange proprio perché grazie al pareggio in Champions League e all'accesso alla successiva fase di semifinale il token digitale ha avuto un enorme aumento di valore sul mercato e questo vale per il Paris Saint Germain vale per la Juventus, vale per tutte quelle società che credono in questo strumento che poi effettivamente garantirà non soltanto la possibilità per gli sportivi e appassionati del calcio di poter investire ma aprirà al mondo degli investitori digitali anche questa enorme fetta di mercato ogni sport ha una fetta di mercato immaginiamoci quanti milioni di persone eseguono il calcio quanti milioni di persone eseguono per esempio la Formula 1 ed è notizia di questi giorni anche la messa in vendita degli NFT dell'Aston Martin che è sponsorizzata da uno dei più grandi siti di trading che ci sono adesso, di exchange e ovviamente ce ne sono per tutte le tasche di NFT da questo punto di vista c'è quello da 500 euro, c'è quello da 15.000 euro c'è quello da 20.000 euro e ogni NFT ha in sé una sua singolarità cioè esiste soltanto quell'NFT chiariamoci bene non è, ovviamente è un qualcosa che è legato al valore del mercato e della domanda che vi è su quel particolare NFT al contrario della criptovaluta che invece è interscambiabile ricordiamoci che l'NFT resta sempre unico nel suo genere ci possono essere diverse edizioni di uno stesso NFT ma ogni edizione di questo NFT è contrassegnata da un numero che è derivato dalla blockchain ultimo caso molto interessante a mio parere è quello di una tennista croata che si chiama Oleksandra Olinichiova che ha venduto una parte della sua epidermide di 6 pollici per 3 come NFT l'ha venduto per 3 Ether che è la moneta di Ethereum e nella sostanza quella parte di epidermide della tennista venduta per questi 3 Ethereum che al cambio attuale sono circa 5.500 dollari darà la possibilità a uno sponsor di piazzare un tatuaggio su quella parte di epidermide che è stata venduta dalla tennista anche qui c'è da dire che la garanzia per l'acquirente è elevata proprio perché non è fungibile quella parte di epidermide per la tennista e quindi è stata venduta a questo assegnatario per 3 Ether che potrà piazzarci ovviamente uno sponsor che non dovrà essere di contenuto pornografico né contrario al buon costume Sì, infatti la questione che mi fa subito pensare è intanto il fatto che lei trasferisca tra virgolette la disponibilità di un pezzo della sua pelle quindi la possibile compatibilità diciamo col sistema giuridico dalla prospettiva di un giurista italiano è chiaramente sì, sì, certo che gli interessi il secondo è secondo me rispetto ai numeri stellari che abbiamo visto è che è una cifra relativamente sempre relativamente bassa nel senso che abbiamo visto delle aste di NFT che sono sbariati milioni di dollari mi sembra che la sua cifra è fondamentalmente una sponsorizzazione potenzialmente una sponsorizzazione perché potrebbe non essere neanche utilizzata dalla persona che l'acquista cioè potrebbe anche decidere di non utilizzarlo allora, però prima tu parlavi di effetto che volevo chiedere a Tullio se poteva darci qualche modo un quadro ecco, di cosa sono i token di quali sono gli utilizzi che i club prima citavamo il panizzano germani quindi la scuola di calcio non solo possono effettuare rispetto a questa nuova forma di sfruttamento commerciale sì Alessandro io mi ricollego a quello che ha detto il collega Riccardo perché cos'è che dà valore alle cose come le criptovalute come qualsiasi oggetto sul nostro pianeta la sua scarsità noi diamo valore noi esseri umani diamo valore a un bene perché lo vediamo scarso rispetto agli altri quindi ecco sia gli NFT in quanto singoli sia i fan token come si stanno delineando perché è tutta una cosa in itinere sta nascendo ora l'idea di creare questi gettoni che soprattutto nel mondo dello sport ma anche in altre attività possono essere usati da consegnare o da far acquistare ecco agli appassionati che possono manifestare così la propria vicinanza a quel club a quel beniamino ecco a quell'atleta e così via quindi meno ce ne sono o comunque essendo un numero contenuto in un numero finito si attiverà anche la corsa proprio dei fan a dimostrare proprio il loro attaccamento alla squadra è come uno stadio è come un autodromo ecco i posti i biglietti vendibili ecco i posti su cui ci si può sedere sono pochi sono finiti non è che io posso far entrare infinite persone a vedere una partita di calcio sappiamo che sono finiti e sappiamo quindi che c'è un mercato che dà valore a quel biglietto ed ecco così diventerà anche per i fan token questo valore dato dall'attaccamento dei tifosi questi fan token potrebbero essere usati sono le idee che stanno circolando sia nel mondo del calcio che nella formula 1 che del basket anche possono essere usati non so per far votare i tifosi delle attività delle idee che la squadra può deve prendere ecco poi la squadra se si lega a quello che il tifoso dice crea anche un meccanismo di fiducia dice io seguo quello che tu hai votato tu tifoso quindi non so il tifoso potrebbe votare i colori della livrea di un'auto oppure un futuro non so anche la messa in campo di un determinato atleta ecco la formazione di una squadra di calcio immaginati immaginatevi anche voi tutti un futuro in cui c'è questa interazione ancora più forte l'interazione oggi c'è col tifo io faccio un tifo allo stadio e la mia squadra viene gasata ecco così e quindi si comporta in modo più con più forza ecco con più agonismo questo invece questa interazione potrebbe avvenire anche prima o dopo non so anche nei premi da dare nei complimenti nei eventuali voti che si devono fare è un meccanismo che già si usa i token quelli lì non fungibili quelli lì i gettoni normali vengono utilizzati già oggi dagli exchange cioè tutti i mercati delle criptovalute per far votare coloro che partecipano per farli utilizzare sono il motore di quell'exchange più io possiedo exchange più posso operare in quel mercato per le attività interne al mercato ecco e così potrebbe essere per una squadra sportiva io la vedo un'ottima cosa che potrebbe cambiare ma anche di molto il mondo dello sport non dobbiamo precluderci perché veramente ci possono essere tante tante iniziative possibili ma anche di molto